Sì No, c'erano i quartieri No, i quartieri, vero? Il quartieri è un po' di ginocchio Ma non so, c'erano le... Ogni te tu hai, non devi prendere Questo incidente non va tutto in chi anche su se, no? No, 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 no La parola è vera Ma a me c'è che ho trovato a me che sono i quartieri Sì, sì, quartieri C'erano là, c'erano, c'erano, c'erano... Proprio, Brugier C'erano, 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 c'erano Allora, in arrivo, tutto la lampada, c'erano I cittadini, i defonzini Quindi? Allora, c'erano, 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 c'erano Le mort, Brugier, le mort, c'erano, c'erano E poi dopo, adesso, dopo abbiamo ciò D'entrata quattro, avete fatto il suo Devo, sì Perché si è fatto la guerra, sì Ma fa, da te Come si è fatto? Sdot, miso C'erano, miso C'erano, miso Ma questo l'hai fatto, c'erano, c'erano, di 35, di 36 Però, prima, con queste fornette, l'ho fatto di 37 Ah, di meno 37 si deve fare Questi e cinese a zara Ah E un altro aroma A zara si stai? nel 1936, non è passato a suddettivo, perché fai normalmente eccetera, io ero ancora alla guerra, e a Zara? a Zara c'è questa sinistra ma sai che c'è questa istante a Zara? in bicicletta c'è nella città grande allora era divisa con l'Italia e la Pela era l'Istria forse no? si, io ero qui, io ero il ponte di Mer, io ero Canel ma qua ero d'Italia, ma ero l'Igooslavia e dove passavamo qua? da Zul Dever? avessi anche un esposito a miglior? si, no, allora ho detto io io ero l'Igooslavia senza andare in miniera e qualche ascendente sul dì, era sempre Zamboni direttore? no, no, dopo era Pietro Longo ah Pietro Longo, si, che l'ho sentito ancora con te Pietro Longo Zamboni ne aveva più Pietro Longo ma c'è me l'ho di 38 o di 39 barciame o no? eh, di 39 di 39 o di 40 diciamo di 40 e 42 40 e 42 quindi dopo invece quando scoppia la guerra dopo i barciamelli scoppia la guerra? no, no, a me sono stai facendo da migliore ma lavoriamo come un modo di dire in quel genere perché vuoi tracciare? lavoriamo con quel genere e siamo specializzati a lavorare perché e suoi fondere, sa che allora? certo, certo e noi siamo tra te, compagni si, c'è un'industria guerra si, c'è un'industria guerra però dopo ci partì da 1900 cosa c'è da in Lugoslavia? da in Lugoslavia? da in Lugoslavia di 39 di 39 hai fatto il soldato di 37, di 38 di 38 di 39 sono state ricercate e sono state ricercate sono state ricercate poi dopo sono state ricercate dopo non so non so non si vede ma qui allora io ho chiesto ho chiesto ho chiesto però ho chiesto non so come ho chiesto dopo quando hai scoppiato la guerra? no, dopo quando hai scoppiato la guerra c'è la provincia zona in pryce c'è la provincia c'è la provinciaoka che i mususolini hanno detto la guerra in dove ci sarebbero la provincia c'è la truth nè ma se ci siamo areckati ma qui 3.4 seguiti 2 o 3 piccianti tipo ah ah si! Sì, ci stiamo raccolti bene a Bessia e c'è un passaggio che non è stato Vedi ieri da lì io raccontavo tutti ieri gli altri e io Bessia lo trovai dopo Dria dopo Dria, dopo Dria e con me erano che va senti come è? Ah sì? Ma io ero che mi fai in Jugoslavia io stai qui qua a Cordo che aveva ragione Siamo bene, mi pare che mi pare stato un po' poi aveva un anno a Pioca e aveva un anno a Pioca e aveva Piovesse a me e mi dice a me e si stava a Bersia a Fiume a tutti i paesi a me a me in una fondina perché era la era tutti fondini tutti fondini e si sfuggiava un tirone molto vento da base e si sfuggiava i cavalli tutti i cavalli perché noi ero di genio di natura ah e allora in quel momento che avevamo ciò avevamo una compagnia autonoma avevamo tutti in quel da Pioca un po' e tanzia e mania e tanzia e avevamo un caldo e avevamo un caldo e facevamo per il fine per la Pioca e tutti in casa erano spese a città erano i miei 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 e questa ci sta fino a la 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 Chi era ancora Virolongo? No, era Pietro Longo. Pietro Longo ancora, no? No, non capisco. Pietro Longo? Quindi se il torneo lavorai ancora Fulmieri? No, Pietro Longo. Allora, dopo l'eserci di cosa dici? Sparì... Vesbologna, assoluto. Sono anche chiesti, forse. Allora, il torneo lavorai in camminiere, il lavoro che faceva prima, sempre, via. Un legiondolo, perché... Vero alci a me. Quindi, dopo, avrei sempre lavoro in là, in là ci usano, mi dire, dopo, a quante finiva quella, non voi. Tutto distrutto. Ah, era tutto distrutto. Me l'ho sostenuto, proprio direi, perché tovate, perché si, tutti i nostri. Le sorveglienti? Che ero quasi... Mandela. Sì, sì, sì. Mi diceva, oi, Mandela, mi ha detto, la che ho vincato. Un signor sta in tessuto. Ah. Mi ha detto, cosa mi ha detto? Mi ha detto che... Mi ha detto che... Le ho vincato e... Mandela, io, Mandela, mi ha detto tutto distrutto. Ah, c'è l'era... Quello era più sicuro, però? Era cielo, era cielo. Ah. E... Pietro Longo sa che era, l'era una... No, l'era scusa di mercoli? L'era... L'aveva una donna, poi... Lei faceva i lavori. L'ostra, lei è tabiniera. Sì, sì, sì. Era l'ostra. Eh? Persona che era Pietro Longo? Era... Era d'orle? Eh, era una persona giusta. Sì. Per me pareva come un uomo giusto. Era severa, l'era? Severo e giusto. Perché... E ora... Non c'era perché chiedevano sempre. Ecco, l'era... Ma adesso, un po' per le commesse l'era, perché l'era, no? Durante il fascismo, diciamo che c'era, l'era... Come avete visto, l'era un uomo giusto. Mi ha detto anche questa Majorana, perché Majorana era il vice direttore a questo mondo. Forse l'era il vice direttore, quando chiamò Sive alla inaugurità, perché l'era che aveva visto su. Forse, eh? E allora, anche l'era siciliense Pietro Longo. Ah, sì. L'era siciliana anche l'ho. E... Glielo dico, forse. No, no. Un'era a Palermo anche l'ho. Un po', sì. E su Pa, e su Porba, il comune, in che periodo che l'era direttore a lei, lei era professora all'Università di Palermo e va a Pietro Longo. Quindi... Sì, sì. Lei era professora dell'Università. e... E... Allora se questo succedeva, come vi ho detto, lei era una persona che mai chiamata, era giusta, non severa, no? Sì, sì, sì. In che periodo che l'era, io ero durante il fascismo, diciamo che c'è, la gente che diventava le spaghe le stesse, pur non lavorando nella miniera, perché faceva un po', diciamo, i lavori di fascino, i deviziare, trasquedere, eccetera, eccetera. Io c'è anche... Ah, ma io c'è anche... io ero un po', un po' santo, un po' c'è, no? Io avevo... quello... che sono sempre... il signor Valentino... che sono... che sono... Parra, Parra. Parra? mi diceva, pensavo. Si, si, si. Ti ho pensato, la tua... la tua... la tua vita è stessa, è stessa, è stessa, è stessa. Si. infatti, ma no, ho detto, ho detto, ho detto, subito dopo, alla fine della guerra. La mia, 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 la mia. la mia, lì, il giorno di Roma, mio semestre, io ero. Io ero. se ero morto. Oggi, oggi, io ero morto, non c'erano per me. Sì. mi scrive, fuori? Si. Ma come si aveva? Poggi! Poggi! Ecco, ma Poggi, io ero in Massa e che ero? Non c'erano, perché io ero non c'erano di me, perché l'olio, la mia, e la mia, Fai sempre, qua faceva la ragazza, fu niente, da ciò. L'entra viniere no? Niente, sì. Ma un'era però, l'era un dipendente da Monte Catini, no? No, non so se allora era dipendente o se l'era pagheta da chi, ne so. So che un'era a mezzanotte, un'era fatto di me per i grecci. Sì, sì, sì. E l'era a mezzanotte da lui, in un'era, ciò che era in una strada, 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 una strada. L'era a mezzanotte da lui, in un'era, ciò che avevano più di voi, da lui, da lui. Quindi, a mezzanotte? E da sempre, a mezzanotte da decine. e lei era in un chantier a Bipasatretti io ero a Stretto un po' lento e mi facevano anche i prosti i prosti li facevano? i prosti li facevano molto poi da Cina a Bipasatretti era in un chantier a Bipasatretti per parlare io da Luce ho fatto perché voi stasiva sempre a Montchiovare? no, tu che stasiva dopo? no, allora stasiva della tomba la tomba è sotto il bar io sono, lo so i miei, i campandondi a Berci però dentro il senna che io ero con un dottore famiglia adesso metti a lui prima del solito bar si io ero a Stretto un po' la cosa che fa cacca io ero una cacca e io ero troppo io ero troppo io ero tonto cioè, allora stasiva dopo io ero anche il pudire di filippetta depritto no, prende sempre le terribili io ero anche la brocola e il pudire di filippetta io ero no io ero cazzo cazzo di libri cazzo di libri la compri qui non è ma è non è ma è non è un po' di non è un po' di non è non è ma è ma si perchè la stella è trastornina si la finessa adesso si va bene con una macchina si non è che mi ha detto che mi fiume ma mamma coated non è adesso ci ho preso questo Daniele perchè ci sono voi se lo venga la compri la cosa è ma è no la compri la compri con l'ambiente ma non è pronta la sua ora non so se la troverò un bel posto ma adesso la sono piena di fiori le belle di sferde fa da l'età ma ti ponete forse un posto? ma no ma l'ho visto che fostè in ria e sferta ma adesso arriva la macchina perché trovo lì con un po' vento 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 e allora il baronico con un po' vento allora andiamo a metterlo queste po' vento e quindi vi lavorai ecco, durante la guerra e quando è stata ferma la miniera? perché vedete che è stata distrutta c'è, abbiamo un balleo abbiamo distrutto allora avevo toccato le tute qualche corretta perché durante la guerra non poteva più e mi pare la mamma diceva ma che cosa fa? che fa lette bughe lette bughe lette bughe lette bughe ciò dormivo sempre e allora e non poteva più e allora e allora e allora e allora e allora e allora dopo i bombardamenti in questa strada in questa strada mi tornava e allora e allora e allora e allora e allora e allora tutto distrutto il capo a noi tutto quello mi era piccato poi finalmente non aveva capito la miniera la gente diceva finalmente non aveva capito la miniera perché era distrutto di quello e invece dopo ma proprio gli aveva bombardè e tutto distrutto ma 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 anche al cano no al cano al cano il capo a noi il capo a noi non poteva fuori nel calè e io ho distrutto tutto madonna Dio ma proprio non aveva un racconto di sotto sì 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 io avevo tutto distrutto e quindi dopo la miniera era ferma la miniera ma la miniera dopo non porti dal nord perché l'acqua le aveva giusto fin quel l'acqua le aveva ripeto sotto anche lì? no 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 fino a chi l'evento era ripeto perché l'era da non so un certo beh questo è un lucro che l'ho avuto sì sì allora che fosse che fosse io ero una galleria la vasca che l'era quindi con le rapine fino a cosa l'acqua era? io ero il fuleto fatto in Tla Vittoria ci avevo fatto l'acqua una fea lì a quella a quella a Cega Cega proprio Cega forte quella mattina mi eravamo tanto un celeo mi eravamo un celeo era una grande grande mi eravamo tutti spure in Tla Vittoria in Tla Vittoria L'oniglio era un'oniglio, no? No, l'oniglio era proprio da collaborare, se che ero vicino, era una locina e abbandonata, passava da che era Schemi, e che ero stessa lì... Poi lui ci sarà ancora, ci sarà ancora? Io ero una grandissima, io ero un guerro. Lo scelteva, mi chiedeva. Ah, che è morto là, forse ho capito. E poi io ero, lei diceva, ma so che con te mi aveva neanche detto. Io veniva a scuole, cosa so? Io ero, vittorio, 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 vittorio. Sì, sì, io ero una massa. La vittoria era tre? Sì, è una cosa che ci chiedeva, non c'erano, che ho avuto più altra. Mi chiesto ancora una mese a prendere? No, le chiesto. Zé, adesso sono giusti, l'ingresso. non ho fatto che c'erano, ma che stavano prima di dormire, dopo sarebbero... l'ingresso di cederia? e ho fatto il perro a tutte le basi e poi dovevamo, che sa? decimari decimari e decimari, dovevamo farlo e invece forse divagarsi la roba Sì, la realtà è lì, credi? Guardi tutti. Sì, e tu chi li ha portati? No, no, no. Vanno da ferventi. Da ferventi. Quindi, ecco, torniamo ancora dopo la guerra. Quindi l'assistente di Darnov, la miniera, ha cominciato a lavorare a Darnov, normalmente, ha cominciato a lavorare a Darnov. Francesco è arrivato a Darnov. Chi è stato direttore della miniera? Lui era Orden. Orden? Cioè Orden, lui era stato in Ceprema Orden. L'erizio. L'erizio è stato in Pietro Longo. Ah, è stato in Cero, in Pietro Longo? No, non è un po' in Cero. Cero dopo le definì a Roma, le molte, le molte. Le definì a Pertichera. Sì, dopo Pertichera. E lei ha mandato un direttore che ha piaciuto a miniera. Che usceviva, no? Aspetta, usceviva? No, no. L'erizio è piaciuto a miniera. Non è solo una macchina. Non è solo una macchina. Non è solo una macchina. Ma è in Cero, non è un po' di persone. Non è così. Ma prima, ha avuto un po' di miniera. E poi, un po' di persone, un po' di persone, che avevano mettere un po' di vagon. Un po' di miniera. Sì, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Sì, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito. Oh, mia regia l'amore